Come muoversi in sicurezza nel traffico e nella vita di tutti i giorni? Molto spesso brontoliamo per l'evoluzione della guida, di solito non in noi stessi ma negli altri. Ne vogliamo parlare oggi in studio con Francesco D'Alessandro, Guida Sicura Supercar. Francesco, qual è la necessità da cui è nato questo progetto? La necessità è di rendere i cittadini più consapevoli di quello che è lo strumento automobile. Spesso si prende la patente e si guida in maniera inconsapevole o comunque non attenta rispetto a quelle che possono essere le condizioni della strada, le condizioni dell'automobile. Non si capisce perché bisogna cambiare i pneumatici, spesso anche alternandoli con gli estivi e invernali. Non si sa come correggere un sovrasterzo, non si sa nemmeno che cos'è un sovrasterzo. Si dice volgarmente che si è sbandati o la macchina è partita, però di fatto mancano proprio delle regole base sulla guida sicura. Quindi il nostro progetto in realtà vuole diffondere un po' la cultura della sicurezza sulla strada, ma anche poi del soccorso perché poi all'interno di alcuni nostri corsi prevediamo anche dei moduli di primo soccorso e di reanimazione cardiopolmonare nel caso in cui si venga poi coinvolti in incidenti stradali e bisogna almeno, insomma, sia ancora in grado di prestare dei primi soccorsi. Nella sua esperienza quanta mancanza di consapevolezza, la chiamerei, c'è in noi che guidiamo quotidianamente? Beh tantissima, tantissima perché veramente noi siamo anche abituati a guidare o a utilizzare l'auto in un certo modo, a volte anche in maniera distratta. Ma faccio un esempio banale, un esempio viene sempre dalla frenata. Noi consideriamo la frenata come una frenata progressiva, più ci si avvicina all'ostacolo, più tendiamo a spingere il freno, diciamo, più forte e in maniera più decisa. Mentre invece quella che noi insegniamo in scuola piloti è una frenata degressiva, quindi subito una frenata importante, 80-90-100 kg anche di peso sul freno e poi andare al rilascio del freno man mano che ci si avvicina all'ostacolo. Provare per credere si riducono i tempi e gli spazi di frenata. Questa macchina che vediamo alle nostre spalle è una delle vostre? È una di quelle che abbiamo utilizzato per i corsi di guida, in questo caso sono corsi di guida sportiva. Noi in realtà ci rivolgiamo ad un pubblico molto trasversale, quindi partiamo sostanzialmente addirittura dai kart per i bambini fino ad arrivare in realtà a delle macchine normali e a delle Ferrari. Facciamo dei corsi di guida sicura, guida sicura su neve e ghiaccio, guida sportiva come in questo caso. Lavoriamo molto con le forze dell'ordine per dei corsi di guida militare, facciamo anche corsi di guida nei mezzi di soccorso. Questa alle spalle è proprio una di quelle macchine che viene utilizzata. Questa è una 4.30 Challenge. viene utilizzata nei circuiti proprio per questo tipo di corsi, per persone in realtà che stanno facendo un percorso spesso anche per diventare istruttori. Noi in realtà facciamo anche un corso istruttori per noi stessi all'interno della scuola. C'è un sito internet? Sì, è www.guida sicura supercar.it Allora io ringrazio moltissimo Francesco D'Alessandro per questo progetto, per questa importantissima attività e restituisco la linea allo studio.